il torneo di alessia ci ha chiesto di organizzare questo suo torneo siamo stati molto onorati della sua proposta oltre all'aspetto diciamo così agonistico vorrei sottolineare questa è soprattutto una festa una festa in cui stiamo andando a festeggiare lo sport oristanese la pallavolo oristanese e soprattutto la festeggiare una campionessa di livello mondiale che comunque abbiamo abbiamo ad oristano alessia ci trevi moltissimo all'organizzazione di questo torneo insomma il primo giorno è più che incoraggiante è direi proprio di sì l'abbiamo organizzato anche un po di fretta per inaugurare questi campi perché sono stati progettati pensati abbastanza tardi alla fine ce l'abbiamo fatta sono contenta è davvero una bella cosa far muovere un po lo sport nella regione ogni tanto comunque insomma la pallavolo oggi si vede cose di buona salute qui in provincia di Oristano ancora sì sì ci sono tantissimi ragazzi che ovviamente abbiamo dovuto fare a numero chiuso perché come detto prima abbiamo organizzato un po velocemente lo spazio bisognava ecco crearselo un po prima ancora di più abbiamo 200 200 atleti iscritti al torneo tra le s3 fino all'over più tutti i ragazzi che sono venuti qui per passare una bella giornata di sport di sole di musica tu fai anche da talent scout cerchi i giovani promesse sì sto dando un occhiato in giro vorrei girare più i campi in questo momento però sto firmando e facendo le autografi le foto poi quando mi libererò un po ecco andrò in cerca di qualche talentino due cose al volo su di te obiettivo stagionale col club e gli obiettivi sono molto alti come l'anno scorso ovviamente cercheremo di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi gli obiettivi sono chiari penso a tutti e cercare di vincere tutte le le copie possibili come penso anche tutte le altre squadre che abbiano questo obiettivo e niente vedremo chi sarà più in forma che avrà la squadra più promettente migliore nazionale ti piacerebbe essere allenata a velasco penso che io non ho mai avuto problemi con nessun allenatore nessuna giocativista quindi io alla fine ecco che arriva andrà bene io mi adeguo